Questo pomeriggio alle 16 tre sindaci del territorio Fossombrone, Monte Felcino e Sant'Ippolito ed un assessore del neonato Colli al Metauro si sono dati appuntamento davanti all'ospedale di Fossombrone per valutare la situazione al suo interno e rinforzare così il sodalizio che li ha uniti per protestare con una lettera presso la regione Marche per lo stato di insufficienza dei servizi ai cittadini sul fronte della sanità. Il pericolo a loro vedere è quello del perdurare delle condizioni attuali che porteranno i livelli di garanzia dell'emergenza urgenza sotto la soglia di sicurezza soprattutto per il delicato periodo estivo. Confermiamo le nostre richieste che sono assolutamente indispensabili per il nostro ospedale, punto di riferimento non solo per la stessa Fossombrone ma per tutta la vallata quindi riteniamo che sia importante continuare che questo ospedale possa garantire almeno un minimo dei servizi necessari alla cittadinanza cosa che ultimamente non sta accadendo. Abbiamo già fatto un documento inviato ai vertici sanitari regionali qualche settimana fa, purtroppo ancora non abbiamo avuto risposte quindi siamo qui a ribadire le nostre richieste e anzi a farne altre perché poi ho inoltrato un ulteriore documento che estende ulteriori preoccupazioni per la situazione del nostro ospedale.